E' una conclusione, anche questo mi è sembrato un airball, non vorrei sbagliare Jefferson innescato da Perry e realizza Jefferson Bella palla di Jefferson, assisti Jefferson prova a prendersi questo team Si affida a Jefferson il taglio di Mollura che subisce fallo Mollura per Jefferson, bello l'assist per Perry Intensità in difesa, lo scarico per Jefferson da tre punti e c'è Era di probabilmente a ragione lui, Jefferson nella frateria Non c'è nessuno dei compagni di Perry a prendere posizione Jefferson ancora resta il trio In ticico e lettura, si Jefferson lei ha Trapani Ancora Jefferson, alza la parabola 5 secondi per chiudere l'azione, deve andare al tiro, lo fa con Bossi e realizza Jefferson dà la risposta, pick and pop con Perry, uno dei migliori tiratori da tre Trapani può andare in contropiede, non se la sente Jefferson di chiudere l'azione, va in contropiede invece Sbaglia per due volte Trapani può andare in contropiede con Jefferson da tre Realizza Jefferson Per il nuovo vantaggio da tre Jefferson Che trova ganeto dall'arco, piede sulla linea, sono solo due Gran gioco proprio da Jefferson Jefferson contro Marino, la finta Ancora! Cambio difensivo in aiuto, cambio C'è la Renzi completamente solo, ma Jefferson Bravissimo Buono se venga a parca di Invento a pensare Grazie! Grazie per la visione!